Salvecco, vediamo mentre mette a posto sistema il piatto che sarebbe l'antipasto della serata dedicata al Natale del Cuoco, oggi 9 dicembre 2019. Abbiamo il responsabile di questo piatto, perché ha questo incarico, si chiama? La squadra Minci Guerra. Quindi questo ruolo e questo incarico per questo antipasto è deciso da? Abbiamo fatto un ruolo di gambero rosso con i ricci di mare, passatina di cavolfiore, ciccasi di cavolfiore e limone candito. Avevamo un inizio che fosse delicato per la serata, quindi abbiamo unito la dolcezza del cavolfiore e del gambero rosso, la nota aiutata del riccio di mare, la parte croccante rappresentata dalla ciccasi di cavolfiore e da un paio di 5 cereali. Ci spiega il simbolo? Non è un F? Il locale dove lavora? Ecco, sarebbe a Latina. Forma. Quindi l'incarico a Forma, la Latina qual è? Di chef, chef di cucina. Di cucina. Bene, quindi la serata è la prima volta che partecipate a questa festa del cuoco? È la quinta in realtà. Beh sì. E altri luoghi o posti di lavoro? L'hotel Europa, ho stato per otto anni l'ho scelta dell'hotel Europa, ho lavorato alla campus e perrocina, all'eroteca dell'orologio e alla Latina. È perfetto, è un'esperienza. L'esperienza c'è da fare ancora. Non si finisce mai di imparare, no? No, sì. Quindi c'è sempre da migliorare. Grazie, a più tardi per assaggiare a tavola. Grazie.